Fratelli e sorelle, un po' che non ci vediamo, sono Pietro Paolo Trinità, paparapapapapà, venite sul mio canale, venite sul mio canale, Dio i benedica, sia lodato Gesù Cristo, sia fatta la sua volontà, lode e gloria a Dio. Se volete, se potete, iscrivetevi al nostro canale Pietro Paolo Trinità dedicato al Signore Gesù con campanella, mettete like al video per meglio far diffondere la parola di Dio e i messaggi sull'Avocalisse. Sapete perché ho voluto fare sto video? E mo' ve lo dico, vi faccio una confidenza, perché alcuni hanno detto che io porto sfiga, ma io parlo delle gallette, parlo dei terremoti, degli tsunami, ma no perché porto sfiga, e questo lo potete vedere pure su Google, c'è sta un santo che si chiama Sant'Annimba le Maria di Francia, lo trovate su Google, ma voi su Google non è che ci potete andare solo a vedere U-Porn, Pornhub, le MILF, le Gang Bang, perché ste cose vi portano direttamente all'inferno col decimo toro. Sant'Annimba le Maria di Francia, leggiamo la scrittura, interroghiamo i secoli, ci disse. Adesso vi leggo alcune sue parole. Allora, noi troviamo Dio che punisce non solo nell'altra vita, ma anche in questa, diluvi sterminatori, terremoti distruttori, guerre, epidemie devastatrici, caristie e siccità. Mali sempre nuovi ingogniti, tutto dimostra che Dio castigasi veramente i peccati anche in questa vita. Qui la bestemmia regna sovriana, qui l'usura, il furto, i omicidi, ade, superstiziosi, spiritismo, ci sono le magherie, i sortileggi e tutti questi peccati, gridano al Signore, Signore affrettati, punisci, 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 bastona, fai stragi, coronavirus, tsunami, terremoti, ma c'è ragione, questi sono i nostri peccati. Poi vi dicevo, nel video precedente, Simona Marino, ma Simona Marino che ce l'ha fatta di Facebook, voi andate a vedere la pagina di Facebook, Simona Marino ha rischiato di essere punita dal nostro Signore, perché lei prima era cattolica, poi è passata con Don Minutella, ed era proprio una fedele Don Minutella, poi è ritornata cattolica, è ritornata all'ovile e si è salvata il Parediso. Io mi ero venuta, una felicità quando è tornata, e mi veniva come i testimoni di Genova, i testimoni di Genova si riuniscono in grandi strati e tutti salsano in piedi e battono le mani, e mi ero venuta di fare la stessa cosa quando Simona Marino è uscita dalla pagina Facebook e è tornata finalmente all'ovile, nella chiesa cattolica, e io ho immaginato come tanti testimoni di Genova, che se alzavano in piedi e tutti i testimoni di Genova cominciavano in piedi a battere le mani, come si chiama, come si chiama, e facessero sì, la station wagon, dice facciamo tutti insieme la station wagon, battiamo le mani per la pecorella che è ritornata all'ovile, e sono poi andato a casa sua, però mi dispiace, perché questa, sapete che c'aveva, c'aveva una foto originale delton gionno, e io ho detto ma quello lì è mosessuale, e tu fai peccato, fai peccato agli occhi di Gesù, lo fai piangere a Gesù, se tu ti tieni una foto delton gionno, e lei mi ha detto sì, ma quella è una foto originale, autografata da Beppino De Capri, e che glielo potevo dire arrivato a quel punto? Non lo so, anche perché lei dice che sei riavvicinata al cattolicesimo lasciando Don Minutella per le due scomuniche, perché è devota De Sander Storgio da Paricali, che è un protettore di quelli che si levano il maglione senza levarsi l'occhiali, ma questo è inaudito, inconcepibile, non ripuoi ritornare alla chiesa cattolica solo questo motivo, io per esempio, ho tante cose che vi vorrei dire, ad esempio voi non vi rendete conto che non porto sfiga, sono detto che ho visto un sacco di cose, io ne ho viste cose che voi umani non vi potete immaginare, navi di combattimento, un fiamma ai largo di bastione d'orione, ho visto i raggi bibbalenari nel buio vicino alle porte del St. Nauser, e tutti i momenti andranno perduti nel tempo come lacrime della pioggia? No! 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 È tempo di morire? No! Perché è giusto che ci siano i terremoti che devastino questo pianeta dei peccatori, perché so tutti i nostri peccati. Comunque, Dio benedica, salutato Gesù Cristo, sia fatta la sua volontà, lode e gloria a Dio, se volete e se potete iscrivetevi al nostro canale Pietro Paolo Dernità, dedicato al Signore Gesù con campanella, mettete like al video per meglio diffondere la parola di Dio e i messaggi dell'Apocalisse, per il momento è tutto, andate e non beccate più. Un caro saluto da Pietro Paolo Dernità, paparabappa papà.